E' già chiamato per un'altra borsa, l'hanno fatto un giro dentro per controllare perché l'altra borsa era un'altra borsa e quindi, su un pesce o su un clima, il problema non c'era la borsa che cercavo, non c'era la borsa, non c'era la borsa e no, prima ho fatto un giro per trovare una storia, c'erano altre robot e non c'erano la borsa è un'altra borsa, c'erano l'altra borsa e non c'erano le loro borsa, c'erano le loro borsa Dovessi ancora rifarci un primo mio testo di un benedice? Quando ti rispondo, no, no, ma... ...i un fenomeno, entro il 5-10... ...vi devi dire che il direttore è un quale che ti sono, no. ...in siamo, non 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 siamo. ...niamo siamo, non siamo, non siamo, non siamo, non siamo, non siamo, non siamo. E infatti, dovrei parlare molto perché mi hanno detto, non so... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti